Ciao a tutti ragazzi, sono Ed e benvenuti in questo nuovo video delle survival games Allora, siamo qui nella mappa, come si chiama, game room E sto commentando dopo la registrazione, vi faccio ora sapere il perchè Purtroppo mi si è un attimo rotto il mouse perchè non so cosa è successo ma ci ho messo dell'acqua Intelligente 1-1 E quindi vabbè, domani comunque dovrebbe essere aggiustato perchè sapete che quando c'è l'acqua Quando si mette l'acqua poi basta farlo asciugare eccetera, dovrebbe essere a posto per domani Quindi ho usato un nuovo mouse, stavo commentando diretta E il nuovo mouse, che in realtà è un vecchio mouse perchè è un mio vecchio mouse Ha il filo e quindi l'ho dovuto attaccare davanti Siccome il mio computer ha un solo porto USB Le cuffie sono andate dietro e per un problema che non so che cazzo sia successo L'audio della mia voce faceva cagare E non so per quale motivo, vabbè, ignoro davvero il motivo Comunque domani l'audio, comunque domani il mouse dovrebbe essere pronto e quindi niente E quindi sarà tutto come prima, tranquilli E quindi questa qua è appunto una partita che ho fatto dieci minuti fa Mi è piaciuta abbastanza Soprattutto per una cosa che vedrete tra un minutino Allora qua all'inizio ho preso un'armatura abbastanza buona per iniziare Poi però non ho, diciamo, preso pezzi abbastanza corposi Qua cercavo le cose Eccolo qua, questo è stato un colpo fantastico Qua l'ho colpito una volta Qua pensavo che mi fosse scappato Invece lui non mi era scappato L'ho colpito una volta, due volte con la spada Con la freccia E poi lui, ma E poi l'ho colpito con la Gli ho dato il colpo di grazia con la spada Ecco qua succede un'altra cosa Vedo un tizio Ora tra poco questa cesta dovrebbe essere vuota Infatti vedo un tizio No, aspettate, allora Dovrebbe essere qua vicino in teoria Eccolo là Un tizio la fermo No, dov'è? Eccolo là, sì Un tizio la fermo In sostanza io cosa faccio? Gli tiro la freccia Io vedendo che non si muove Lo vado a killare C'ha un'arma Abbastanza buona Che era una Una spada in ferro Inchantata Con fire aspect E allora Infatti vedete ecco qua Che mi incendia il tizio E probabilmente poi Quel tizio la Verrà anche killato Perché al deathmatch C'era Un altro tizio Eh, cazzo Vabbè Comunque si arriva al deathmatch C'era un altro tizio Che aveva una spada Inchantata Ma non aveva fire aspect Vabbè non mi interessa Comunque avrei potuto avere Una spada con fire aspect Di iron Che è di tutto rispetto Ma purtroppo Vabbè per un problema Niente insomma È successo così Qua Vengo inseguito Come una merda Perché vengo inseguito Come una merda E Ecco qua Cerco di colpire un tizio Mi giro E tra poco Dovrebbe Essere killato Eccolo qua È killato John Che è 91 E Novità assoluta Non la sapevo questa Forse No L'hanno aggiunta oggi Perché ieri non c'era Il deathmatch Parte in 10 secondi Cioè non è Non parte automaticamente Cioè non parte Immediatamente Ecco vedete che Quello lì con la spada Probabilmente Quello lì con la Che aveva la spada Cioè vedete Ecco Avete visto Avete visto che M'ha colpito Ma non m'ha Incendiato Ecco Quindi probabilmente Quello che aveva la spada Di fuoco L'ha È stato ucciso prima E comunque Alla fine vinco Perché quei due Si uccidono Quindi niente Mi scuso ancora Per il problema Che c'è stato Ciao a tutti